Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Oggi è stata una giornata caratterizzata dall'istabilità atmosferica e dall'arrivo dell'aria più fredda proveniente dai quadranti settentrionali, quindi abbiamo avuto delle piogge ben distribuite sul nostro territorio e un calo sensibile delle temperature. Pensate che anche sulle orobie sono tornate delle spruzzate di neve intorno ai 2700 metri di altitudine. Cosa accadrà nella giornata di domani? Avremo un generale miglioramento del tempo perché la perturbazione si allontanerà sulle nostre regioni adriatiche, pertanto già a partire dalla mattinata di domani cesseranno le precipitazioni, avremo ampie schiarite e nel corso della giornata avremo celi tersi a causa dell'arrivo di venti settentrionali più secchi che porteranno appunto una decisa stabilità atmosferica con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Avremo una ventilazione sostenuta da nord e in montagna farà anche abbastanza fresco con minime acclusone intorno ai 12-13 gradi. Come sarà la settimana prossima? Avremo due fasi distinte, un inizio di settimana con un cielo nuvoloso, specie nella giornata di lunedì, a causa del vento più fresco proveniente da est, pertanto avremo per lo più cieli irregolarmente nuvolosi ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Temperature piuttosto fresche per il periodo, comprese fra 12 gradi di minima acclusone e 22-23 gradi, gradi di massima. Cosa accadrà nella giornata di martedì? Martedì avremo un graduale miglioramento del tempo con cieli in prevalenza sereno o poco nuvolosi, un' temperatura anche in graduale ripresa con massime intorno ai 23-24 gradi, acclusone, uno zero termico che si posizionerà intorno ai 3.300 metri di altitudine. Mercoledì arriverà una nuova perturbazione ma molto veloce, porterà qualche nube irregolare sul nostro territorio e qualche locale scrocio e scoppio di tuono nelle ore centrali a giornata di mercoledì con temperature di nuovo in calo. Poi avremo una tregua, fra giovedì e venerdì avremo cieli in prevalenza sereno o poco nuvoloso con temperature in ripresa, comunque nella media del periodo, comprese fra i 13-14 gradi di minima e i 23-24 gradi di massima. Poi a partire dalla prossima fine settimana avremo probabilmente un severo peggioramento del tempo, addirittura di stampo autunnale. E per il mete è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2.